Grazie a tutti Ci siamo quasi, i giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatori da un momento all'altro Un saluto da Fabio Garesa con me per il racconto di questa partita Ci sarà Luca Marchagiani Un saluto anche da parte mia, speriamo di vedere una partita interessante E si comincia Canales Palla in profondità sulla fascia È libero di creare pericolo Si libera la grande Colpisce il pallone Tiro lento, non può creare problemi al portiere C'era quasi Ma poi qualcosa è andato storto È sempre incoraggiante arrivare per primo al tiro in porta Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro Canales Tocco prudente al portiere Lancio lungo del portiere Ottima pressione la sua Palla recuperata Prova il filtrante E poi ci prova E' un grande riflesso qui E' stato splendido l'intervento del portiere E' incredibile che ci sia arrivato Sembrava un gol fatto Arriva sulla palla e interrompe l'azione C'è la palla lunga In avanti Marchese Si fa vedere Se ne va C'è il tiro Ottima parata del portiere Perfetta la parata Il portiere è rimasto concentrato E' stato molto bravo Una parata stilisticamente non perfetta Ma era una palla velenosa E alla fine conta il risultato Bel pallone Cigarini Raccoglie un passaggio dalle retrovie Prova la conclusione aerea Ha fallito una clamorosa occasione Prova a verticalizzare Milivojevic Pires Vuole la profondità E trova bene il compagno Mandzukic Ha spazio per... Salta e colpisce di testa Si sblocca il risultato La difesa era ben schierata Ma è riuscito comunque A trovare lo spazio E a insaccare E' un pessimo cliente Per qualsiasi difesa L'ha appena dimostrato Hanno provato a ostacolarlo In tutti i modi Ma lui si è liberato Di prepotenza Gran gol 1-0 dunque Ora avranno sicuramente meno pressione addosso Ma devono continuare a lottare Povoletti Si avvicina la porta Canales Scodella in avanti Prova a passare Con un pallone profondo Intervento al limite Ma mi è sembrato regolare E gli prende splendidamente Il tempo è scivolata Primo tempo che si conclude dunque qui Finiscono così 45 minuti di calcio Una prima parte non certo avara di emozioni Nonostante ci sia un solo gol a referto La squadra sta giocando bene C'è un ottimo movimento senza palla I passaggi sono precisi E nessuno ha paura di tentare l'azione personale 1-0 dopo i primi 45 minuti E si comincia a giocare Il vantaggio di 1-0 Non dà nessuna certezza Devono dimenticarsi il gol E continuare a fare il loro gioco Come se fossero ancora sullo 0-0 Può concludere Grande parata dell'estremo difensore Qui è stato bravissimo Questa è una grande parata Incornata E la palla entra Autogol clamoroso L'autogol è sempre frustrante Per chi lo fa Ti senti in colpa Per aver deluso i compagni E con l'aiuto degli avversari Sono riusciti ad andare in gol Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia Ha spazio sulla fascia Cerca il cross E' evidente che in questa fase Vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco Non è una sorpresa Quando un giocatore finisce sul tabellino Dei marcatori Viene identificato come pericolo pubblico numero 1 Paduin recupera un pallone importante Sau Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica Vanno sfruttate decisamente meglio Nevia di testa Prova ancora Sau la gioca a sinistra Buon lancio Da lì può segnare Pallone dentro Bella apertura Vedo che la difesa non sale più Non punta sul fuorigioco E vogliono proteggersi dalle imbucate Non concedono la profondità Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti E preferiscono affrontarli con prudenza Evidentemente la tattica è questa Ecco ma è una tattica giusta Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio ogni strategia ha dei pro e dei contro Non si può fare un discorso assoluto Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità Credo abbiano ragione Con questi non puoi correre rischi Si muovono benissimo senza palla E arrivano in porta in un attimo La partita sta ormai per terminare E a quanto pare questa volta non riusciranno a conquistare la vittoria Cerca di allungare il gioco E passa Pavoletti Che grande parata Sicuramente non una parata semplice Sembra esserci un cambio Esatto Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati Il Cagliari decide per una doppia sostituzione Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso Ha la possibilità di andare verso la porta Colpisce verso la porta E l'arbitro dice che può bastare Partita che si chiude dunque con un pari I tifosi hanno assistito a un bello spettacolo Nessuno però è riuscito a prevalere Che partita si è sembrata Luca? Oggi i tifosi non sono certo rimasti delusi Lo stadio si svuota E Luca ce ne possiamo andare anche noi Grazie mille a Luca Marcheggiani Un saluto a tutti Alle prossime occasioni con il grande calcio Paura 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 Paura